5 dicembre 1963. Nasce il governo Moro con la partecipazione diretta dei socialisti che tornano al governo dopo 17 anni. A Pietro Nenni va la vicepresidenza del Consiglio. Inizia così il centro-sinistra, una fase fondamentale della storia d'Italia. Noi non siamo dei conservatori. Nel programma concordato vi sono l'adozione della programmazione economica, l'istituzione delle regioni, le riforme per la scuola e quelle per l'urbanistica e per l'agricoltura.